Che sviluppo e che opportunità potrà avere il mercato del termalismo? Che risvolti potrà offrire ai centri termali dell'Euregio? La tematica è stata affrontata in Tirolo nel corso di un incontro al quale hanno partecipato una cinquantina di addetti ai lavori ed esperti provenienti da Alto Adige, Trentino ed Austria. Durante il suo saluto il segretario generale del GECT, Euregio, Tirolo, Alto Adige e Trentino, Valentina Piffer, ha sottolineato l'importanza per i centri termali di mettersi in rete a livello trasfrontaliero. Il convegno di oggi ha riunito esperti degli ambiti della ricerca, sanità e turismo per una discussione congiunta su come valorizzare il settore termale in tutti i suoi aspetti e come promuovere la varietà dell'offerta in un unico territorio. A più riprese è stato sottolineato come nella dialettica tra benessere e turismo della salute debba divenire sempre più importante attirare nuove categorie di ospiti disposti a pagare di tasca propria trattamenti termali. Importanti le testimonianze dei relatori trentini, con particolare riguardo alla ricerca scientifica che sta alla base dell'attività termale medica. Le terme trentine sono terme terapeutiche, quindi non sono terme per il benessere, ma sono terme curative. Per fare dell'attività termale medica bisogna fare della ricerca, altrimenti non c'è da parte della classe medica la tranquillità di poter prescrivere una cura termale. Per questo, soprattutto alle terme di Comano, abbiamo iniziato una serie di ricerche che vengono pubblicate su riviste importanti e anche americane, perché al giorno d'oggi bisogna pubblicare su riviste internazionali. Infine, un appello degli esperti a non improvvisare quando si parla di progetti in ambito termale. Le terme sono poi un settore trasversale, può andare a intrecciarsi col turismo, può andare a intrecciarsi col settore della ricerca, anche della ricerca per l'energia, per l'ambiente, per l'acqua. Quindi, ecco, bisogna conoscere bene dove si vuole impostare i propri progetti, perché se si conosce, se si hanno degli obiettivi chiari, si trova anche il programma adatto su cui sfruttarlo. Non si può partire al contrario, cercare di costruire un progetto solo perché un bando lo richiede.